amici di motosport.com ciao a tutti è sabato e quindi abbiamo il nostro appuntamento puntuale ogni settimana con il nostro candido vai a dire antonio ghini che è già qui bello pimpante sorridente ciao antonio buon sabato ciao ciao a tutti spero che sia l'ultimo sabato in cui metto il maglione adesso oggi la giornata sembra bella però l'abitudine mi ha fatto mettere il maglione guardiamo al futuro positivamente anche a imola positivamente tra l'altro devo dire prima di affrontare un argomento che farà arrabbiare il direttore ma questo lo lasciamo per per dopo tra l'altro devo dire sorprendente il cambio portato da ferrari alla macchina bisogna cambiare metterle anche una nuova sigla forse nel senso che quello che si è visto a fiorano è qualcosa di che va ben oltre quello che io immaginavo un nuovo fondo qualche qualche nuovo qualche nuova modifica alla parte aerodinamica invece è stato un lavoro profondo e ampio guai dire la macchina mi piace quindi va bene perché se io penso quando è stata presentata la v13 di mercedes ho detto wow che bella andrà fortissimo infatti è stato un disastro epocale però 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 mi sembra che la strategia di maranello e qui va sor deve essere lodato in questo perché tante cose tanti tasselli si si congiungono ha rimandato a imola giustamente perché non era una cosa che poteva fare a pezzi questa è una macchina ha rimandato a imola l'esordio e quindi aspettiamo con interesse e ansia qualcosa di che può effettivamente colmare quella ritardo che si sta prefigurando e che si è prefigurato con nei confronti non solo di red bull ma non è l'ultima gara anche di mclaren bello quindi vedere questo passo speriamo che sia non solo bello ma anche buono è interessante vedere che le cure sono rivolte anche alle clerk perché il cambio di ingegnere di pista è sicuramente anche questo un ritocco strategico quando si sta tanto tempo insieme succede in tanti campi matrimonio in primis ci sono dei momenti in cui l'armonia non è la stessa la colpa di uno la colpa dell'altro la colpa di tutte e due di solito è sempre di tutte e due e quindi credo che questa questa piccola scossa per un personaggio che da come mi insegni tu perché io non riesco a immaginare i piloti teleguidati dai box è troppo lontano dalla mia mentalità di un pilota che si mette il casco tira giù la visiera pronti via e arriva come arriva oggi invece è come dici tu ogni volta mi stupisce che sia così matematico il lavoro compiuto durante tutta la gara ma un cambio di questo tipo vuol dire intervenire su quel discorso che abbiamo fatto più volte che i piloti non devono pensare devono guidare e quindi se un pilota che riceve un ordine pensa che quell'ordine babababa e allora poi magari fa una cosa che non deve fare se quell'ordine è in sintonia col 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 suo pensiero perché i due sono perfettamente in armonia non pensa e va più forte quindi auguriamoci che sia così poi sempre sul piano di queste di queste di questa presentazione ho visto devo dire con un certo piacere la sparizione dell'azzurro mi sembra che julie packard abbia avuto quello che si meritava e torniamo al rosso che è il colore della ferrari e allo stemma col cavallino perché il rettangolo è proprio una cosa che probabilmente hanno trovato qualche foto dove c'erano dei meccanici della produzione che erano andati aiutare quelli della formula 1 e questo rettangolo è apparso perché è apparso anche sui piloti a un certo punto ma così fuggevolmente che non era una citazione strategica però utile a presentare il nuovo sponsor cosa possiamo dire io credo mi fermerei qui non so se tu su questa presentazione di ieri a fiorano vuoi aggiungere qualcosa io siccome non ho visto cose innovative ma cose bene o male copiate dalla red bull rb20 e quindi riprese poi dalla mclaren mcl 38 che funzionano sarei abbastanza fiducioso nel dire che c'è un salto avanti la domanda è siccome si si fa un qualcosa che avvicina chi sta dettando legge mi auguro e mi domando se sarà sufficiente per andare a colmare il gap questa è la mia domanda in vista di imola aggiungendo un aspetto antonio tu hai detto bene hanno scelto imola la prima gara europea dove non c'è la sprint race quindi ci sono tre turni di prove libere e questo è un aspetto molto importante però è altrettanto vero che imola per quanto sia pista di casa Enzo e Dino Ferrari da un punto di vista del layout non è il massimo per le caratteristiche di questa macchina quindi diciamolo prima perché se no poi magari c'è troppa aspettativa e arriva una grande delusione e non è giusto perché non è detto che un pacchettone grande al di là del fatto che sia stato abilmente programmato un film in day la settimana prima della gara per cui i dati di raccolta per verificare che la galleria del vento funzioni esattamente con la correlazione della pista beh al di là della buona organizzazione del sistema ecco mettiamoci l'incognita della pista che subito potrebbe anche non dare il pieno potenziale della macchina tutto così mi sembra una una precisazione importante è un po come paragone un po stupido ma come uno che va in un ristorante mangia molto bene ma deve poi anche digerire allora imola sarà una una presentazione se poi si digerisce subito e tutto va bene va bene altrimenti se la digestione un po lunga l'importante che si sia mangiato bene e che non si stia poi male dopo e quindi con delle automobili così complesse così vicine eh diamo diamo più di una gara per arrivare a a un bilancio poi abbiamo i nostri esperti che sapranno essere più precisi di quello che posso essere soprattutto io non tu che sei un esperto ma a proposito senti noi siamo nell'era dei like più like hai e più sei contento allora perché non dare i punti a tutti i piloti come se fossero dei like e ti dico e ti dico so che questa cosa ti è indigesta però ho riflettuto ho detto non posso dire una cosa a franco così solo per perché lui la pensa diverso da me ho riflettuto sulla possibilità di rendere non stupida questa decisione e cioè oggi c'è ci sono i punti dei piloti e i punti dei costruttori e quelli non si cambiano poi i punti presi dai singoli piloti servono per distribuire il budget a fine anno vale a dire oggi se si trovano supponiamo che in una situazione di assoluta perfezione solo cinque squadre prendessero tutti i punti in una stagione e le altre cinque rimanessero senza ci sarebbe una specie di divisione delle briciole su su cinque squadre con un criterio che non so quale sia non voglio neanche pensarlo se invece entrasse in gioco il un punteggio portato dai piloti in ogni gara forse la gerarchia delle delle della distribuzione dei premi potrebbe diventare più realistica poi che uno dica uno che arriva sempre ultimo prende 24 punti va bene ma chi è arrivato penultimo ne prenderà di più eccetera eccetera quindi tu mi stai dicendo che saresti favorevole all'allargamento dei punti nel mondiale a tutti no in una io oggi ne abbiamo due di classifiche piloti e costruttori poi abbiamo la classifica dei dollari cioè ogni come nelle slot machine no tri 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 allora ciascuno prende le monetine che gli vengono giù conformemente ai risultati che i suoi piloti hanno fatto nel corso dell'anno che è anche questa una cosa che sulle strategie potrebbe influire ritiro la macchina perché tanto ormai sono fuori dai punti no stai dentro perché comunque arriva dodicesimo quattordicesimo e sono più punti piuttosto che faccio fare la strategia di tenere dietro tutti un caso ass che abbiamo bene in mente e tengo dentro tutti ecco c'è una 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 logica che potrebbe essere una logica devo dire in un certo senso merito meritocratica like ma anche funzionale ecco questa è la pensatina che ho fatto perché quando ho detto come mai franco non vuole i punti a tutti e io sì allora ho dovuto andare a capire perché avevo pensato sì e mi è venuto in mente questo forse è una cavolata ma forse neanche quindi la lascio lì così come l'ho detta o altre vedo che tu sei io continuo a dissociarmi si si ti dissoci quindi va bene e giù ogni tanto succede non parliamo del caso direi andretti cadillac nel senso che il fatto che comunque si stia muovendo davvero il congresso americano formalmente dice che sarà un argomento di cui potremo parlare nelle prossime settimane quindi lasciamolo lì sicuro interessante il fatto che ford abbia confermato il l'accordo con red bull malgrado tutte le le marette che ci sono state che potranno ancora esserci marette che potrebbero tra l'altro coinvolgere quel pilota che rappresenta oggi alcuni decimi certi in tasca che altri non potrebbero garantire e quindi questa è una buona cosa che può fare anche pensare che questa presenza americana nella formula 1 non sia solo e unicamente sportiva ma anche di presenza significativa dell'america e questo è un punto che vorrei lasciare per ultimo perché piuttosto denso nei significati e va anche oltre quella che è la la stretta regola del racing però devo dire che sentiamo vediamo che al di là dell'organizzatore che gli americani apprezzano gare che sono forse meno spettacolarmente gestite come accade da loro con le safety car che entrano ogni due per tre però molto solide e con protagonisti che vengono apprezzati ed amati anche grazie a quelle che sono le le programmazioni televisive che hanno dato sappiamo bene di cosa parliamo che hanno dato in passato e che continuano a dare più complicato e mi sembra di poter dire ancora molto aperto quello che quando ero ragazzino io nelle festine da ballo che si facevano in casa con la mamma che stava controllare che cosa si facesse tempi molto passati c'era il ballo della sedia allora si ballava e poi a un certo punto c'era uno che interrompia tirava via il giradischi e allora bisognava cambiare tutti il partner però c'era uno che rimaneva sempre senza e adesso mi sembra che questo ballo della sedia sia saldamente nelle mani di verstappen e del suo delle sue decisioni future ci apprestiamo a vedere un berman che torna sulla formula 1 e questa è una cosa importante per lui perché ha avuto la fortuna che ricordiamo di questa sostituzione di sainz ma oggi è visto come una risorsa io oserei dire certa della formula 1 di domani quindi se da una parte abbiamo un berman che rientra devo dire in un certo senso quasi in una situazione più difficile di quella che ha avuto con ferrari perché lì erano tutti pronti a sostenerlo qualunque cosa facesse adesso sono tutti pronti a giudicarlo è una cosa pericolosissima speriamo che con la testa da pilota che ha non si faccia influenzare di questo poi c'è il programma antonelli che male o bene visto che è difficile pensare che verstappen se ne vada a fine 2024 male o bene arriverà in formula 1 secondo i programmi che ha fatto mercedes più chi esce e chi vuole restare perché ci sono anche piloti che temono di non trovare un sedile per il prossimo anno beh tutto questo ci darà non poche occasioni di riflessione tornando alla discorso che facevo prima degli americani e ampliandolo a quello che è il quella che chiamiamo transizione ecologica e che comunque ha un riflesso sul sulla situazione climatica devo dire che vedere la ferrari coi parasfruzzi a fiorano mi ha fatto capire che la transizione ecologica e la correzione climatica non richiederà pochi anni ne richiederà molti di più molti di più perché ci sono delle complessità dietro a ciò che noi vediamo quotidianamente ci viene detto di cui non si tiene conto perché il nella nostra nella nostra storia il il l'energia è stata sempre al centro dell'economia lo è stato nei secoli scorsi quando avere un corso d'acqua o il vento pensiamo ai mulini a vento olandesi era un modo per avere energia e quindi prevalere su altre economicamente c'è stata l'era del carbone un'era del carbone che attenzione è tutt'altro che finita e ne parleremo tra poco è con la complessità del carbone non solo della difficoltà degli estrazioni con relativi problemi sindacali o di o di eh lavoro che facevano sì che le miniere fossero un punto giustamente le miniere di carbone giustamente nero del quale occupate ma anche con una capacità di inquinamento che era insostenibile pensiamo all'inghilterra della prima rivoluzione industriale che cosa era e e e la stessa milano senza andare tanto in là eh poi c'è stato il miracolo del eh di un di un combustibile liquido come eh il petrolio che ha molti vantaggi ha il vantaggio mh di essere estratto tutto sommato in modo economico quando trovi fai il tuo buco e ti trovi il petrolio poi lui viene fuori diligentemente petrolio gas eccetera eccetera è facile da trasportare e ha un uso e qui introduco un aspetto che può sembrare non coerente col discorso che facciamo ma lo è perché se andiamo a vedere il ruolo che hanno le società petrolifere oggi nella preparazione di quelli che saranno i motori 2026 possiamo mettere insieme delle cose che forse non metteremmo insieme e cioè il petrolio è una una energia che permette il dominio o il non dominio a livello mondiale di eh una situazione legata a tutto ciò che è bellico oggi noi abbiamo la guerra in Ucraina abbiamo il dramma di eh Israele e e e e e il Medio Oriente abbiamo potenziale Taiwan potrebbe succedere che a un certo momento la Cina vuole riprendersi Taiwan e poi soprattutto c'è un sistema di controllo mondiale mh della della pace tra virgolette fatte con eh strumenti bellici importantissimi navi aerei basti pensare che il il eh petrolio eh eh annualmente eh rappresenta eh rappresenta circa 10 mila miliardi di dollari con circa il 30% di questo di questo di questo valore eh per i suoi trasporti eh e che eh e qui mi sono preso dei dati che che lasciano che lasciano a bocca aperta mh il 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 una porta aerei consuma non non nucleare ovviamente consuma ventimila litri più di ventimila litri più di ventimila litri ora eh in navigazione un jet da combattimento consuma circa sei mila litri ora eh in volo e se usa eh i i retro il retro combustione ancora di più allora questo ci fa capire che nel mondo nel quale siamo la formula uno la quella l'automobile di casa eccetera eccetera c'è un ruolo del petrolio che è enorme ed è un ruolo così importante che il tentativo di cambiare quella che è la situazione nei rapporti della dell'ambiente non è risolvibile in pochi anni ma richiederà richiederà molto tempo di qui torniamo a noi cioè il fatto che la formula uno proponga l'unione tra un'energia pulita che è quella elettrica perché se da una parte l'aspetto diciamo militare è dominante dall'altra c'è anche l'aspetto e le risorse dei paesi cioè l'America è autonoma per quanto riguarda il petrolio eh la Cina no eh Cina India e Giappone sono in debito di petrolio quindi la necessità quando si vede che la Cina ha sviluppato fortemente le automobili elettriche l'auto l'uso dell'automobile elettrica in Cina ha apparentemente l'idea di della ricerca di una un ambiente più pulito in realtà una parte principale della produzione elettrica eh degli elettricità in Cina viene proprio dal carbone quindi il il fatto che si sia sviluppato un mercato di automobili elettriche in Cina è dipendente anche dal fatto che eh per loro le energie eh devono essere trovate con con ciò di cui dispongono per cui vedere che una formula uno unisce da una parte eh il 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 potenziale dell'elettrico integrato al motore combustione interna e dall'altra il il un combustibile liquido quindi trasportabile semplice che può avere una distribuzione simile a quella che abbiamo oggi eh che è l'e-fuel o comunque combustibili puliti liquidi fa capire che questa transizione è una distribuzione indispensabile che non alla quale non possiamo rinunciare però deve essere vista in un arco di tempo che sia realistico e questo arco di tempo hm passa fatalmente attraverso la valorizzazione di eh combustibili che mantengono i vantaggi dei combustibili liquidi trasportabilità autonomia eccetera eccetera navi aeree non potranno mai essere elettrici con quelle che sono le esigenze dell'ambiente per cui la formula uno con questo questa proposta di motori hm che uniscono i due sistemi in un certo senso rispondono a eh quello che è hm eh lo scenario che stiamo vedendo di uno Xi Jinping che viene in Europa e cerca di trovare compromessi con un'Europa che è pronta a trovare compromessi e che attenzione anche l'Europa in debito di combustibili liquidi e e e e e quindi di hm una apertura a qualcosa di cui abbiamo bisogno e che deve investire globalmente il mondo e non essere frutto di eh decisioni che sono importanti ma che sono niente in rapporto a quella che è la realtà e per concludere vorrei dire se noi andiamo a vedere quella che è la 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 distribuzione hm hm la presenza dei petrolieri in formula uno nella ricerca di quello che è il combustibile hm hm eh eh ecologico del duemilaventise abbiamo la Shell con Ferrari abbiamo Petronas con Mercedes abbiamo Aramco con Honda abbiamo BP con Renault e probabilmente anche con eh eh con Ford perché Ford corre con Castro Castro le BP diciamo supponiamo ipotesi no? Audi no? Audi no? Audi no? Audi con Mobil con Mobil 1 che è con Porsche quindi come famiglia ci può stare allora tutti questi salvo Aramco che è già molto avanti nell'e-fuel ma tutte queste società sono società che vivono hanno vissuto hanno perfino sostenuto non si sono poste al al a quelle che erano le regole annunciate di passare tutti all'elettrico del duemilaventico del duemilatrentacinque perché sono perfettamente consapevoli che purtroppo l'indispensabilità del petrolio rimarrà per un tempo superiore e tutto quello che viene fatto per far capire che ciò che oggi funziona in un modo potrà funzionare in un altro ecologico e pulito è fondamentale per arrivare a un risultato altrimenti eh ciascuno eh ciascuno eh ciascuno tiene le sue posizioni e non cambia nulla perché la situazione della 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 del proteggere il proprio business è il modo migliore per non far succedere niente oggi ci sono i presupposti che sono dei presupposti che vanno ben al di là della chiacchierata hm che 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 ho appena fatto che avrei potuto approfondire molto di più ma ehm fanno capire che la mentalità della del nuovo non deve essere da oggi a domani deve essere da oggi a un giorno ma da da oggi a quel giorno bisogna fare di tutto e usare tutto e la formula uno è un simbolo anche dal punto di vista del messaggio che da perché è un messaggio mondiale è un messaggio di sport forse gli messaggi di sport sono sempre ben graditi eh verso una strada che deve essere la strada definitiva perché la situazione nella quale ci troviamo che abbiamo ereditato dopo duecento anni di rivoluzione industriale di quello che è successo quindi non possiamo dopo duecento anni di danni dire adesso in dieci anni aggiustiamo tutto dobbiamo sapere che dovremmo andare avanti tanto tempo ma lo dobbiamo fare bene diligentemente e tutti insieme e questo il fatto che la formula una abbia un ruolo abbia un ruolo così significativo nell'ambito dei 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 combustibili e dei carburanti liquidi e dell'elettrico mi mi sembra che sia una bella cosa non so se ho fatto un discorso eh eh che 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 ha una logica ma 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 spero di sì certo che ce l'ha certo che ce l'ha anche perché è espressione quello che tu hai raccontato eh di una guerra nascente fa fra petrolieri nella ricerca eh della formula uno e questa per ora è una cosa che sta rimanendo un po' sotto traccia eh ciascuno sta sviluppando il suo carburante e fuel bio fuel concesso dal regolamento e eh io credo che qui abbiamo il budget cap per le squadre il budget cap per i motoristi ma non c'è il budget cap dei petrolieri quindi se c'è un lavoro a casa eh faccio un esempio di eh dei signori arabi che stanno lavorando in collaborazione con Aston Martin e con Honda e eh comincino un'attività nella quale si utilizzino anche motori eh che si faranno girare al banco e chi controlla quella roba chi ha la capacità di capire eh quanto a Ramco è in grado di finanziare lo sviluppo di un motore giapponese eh che porti a quel vantaggio che un po' la Mercedes si era costruita alla nascita dell'era ibrida e io credo che qui siamo in un mondo eh dove ancora non è chiaro quello che sta accadendo e sarà interessante cercare di capire tanto più che nelle regole nascoste eh che bisogna andarsi a cercare se ho capito bene eh c'è la volontà della FIA un anno di concedere lo sviluppo alle unità eh power unit quindi sui motori l'anno dopo eh con l'adeguamento dei motori andare a lavorare sulle benzine fermando l' elemento opposto che è uno strano che è uno strano che non ho mai sentito nella storia ma eh a maggior ragione potrebbe rendere complicato quello che è la visione di un qualche cosa di motore elettro endotermico che possa essere competitivo. Il il discorso che tu fai è assolutamente realistico c'è una cosa sulla quale io credo che si possa immaginare una deroga deroga che poi in realtà non è una deroga è una cosa oggettiva e cioè io devo sviluppare un carburante ho bisogno di un motore per fare questo eh non sono un petroliere o sono chi sono un chimico e ho bisogno di faccio un accordo con chi fa motori per fare lo sviluppo del mio carburante che dovrà essere il più efficiente il più rispondente a quelle che sono le norme comprese quelle dell'inquinamento e del non inquinamento e a quel punto se ho un partner motorista questo partner motorista che mi dà i motori deve mettere i motori che mi dà nel suo budget cap tu mi dici voglio 50 motori no guarda io nel budget cap 50 motori te ne do 5 va bene quell'altro magari ne dà 7 però ci sarà un limite poi quello che con questi motori il petroliere o chi per esso fa gli sviluppi è giusto a mio avviso che non entri in un budget cap perché se no la ricerca potrebbe venire frenata dalla mancanza di denaro da sempre i petrolieri più impegnati nelle corse hanno avuto risultati migliori di altri perché hanno investito più soldi mi stai dicendo che adrian newway quando dice che non vuole disegnare la macchina del 2026 lui pensando che sia un regolamento nascente non conoscendo ancora la parte telaio e questo mi fa un po ridere porterà addirittura a spostare dal valore motore al valore benzina la competitività perché si parla poi di differenze che potrebbero diventare di una trentina di cavalli su 550 del motore endotermico parliamo di tanto non a caso hai detto che la fia sta cercando di scomporre i due campi e di capire come poter intervenire sì ma quando quando un legislatore decide come vuole far funzionare macchine motori c'è qualcosa che nel punto di partenza del regolamento non va questo mi sembra che sia solo una parte di tutte le cose che nei regolamenti di oggi per la ricerca esasperata del controllo di tutto della verifica di tutto rende tutto più complicato e anche meno interessante per certi aspetti è chiaro che liberi tutti andrebbe molto bene liberi tutti col budget cap altrettanto sui motori credo che credo che la partita sia molto complessa anzi lo è lo vediamo e che quindi se all'attere di quello che il sistema formula 1 c'è una possibilità di sperimentazione da parte di gruppi potentissimi che possono arrivare a risultati e importanti e significativi i 30 cavalli che raggiungono oggi poi dopo quell'altro li raggiungerà dopo domani sappiamo che quando si raggiunge un traguardo nell'ambito di una ricerca libera è facile che poi tutti trovino la strada per e quindi è una variabile che a mio avviso migliore di quella di dire no devi fare così poi così poi così poi così poi così poi così e allora dai dacci una benzina sola andiamo tutti quanti ma il discorso che facevamo prima di un mondo che deve spostarsi verso dei carburanti liquidi non inquinanti non può fermarsi al regolamento della formula 1 deve andare avanti e comunque vediamo e ce ne rendiamo conto che la formula 1 proprio in un campo fino a oggi mistrattato per l'interesse stesso come dicevo prima dei petrolieri che umma umma io non dico niente tanto continuerò a vendere il petrolio sono stati in un certo senso cioè un po' il re nudo allora va bene adesso fatele avanti e allora sono tutti nudi vediamo che si vestirà meglio di tutti di tutti questi re nudi c'è chi si è messo il maglione di lana eh parli di me adesso lo levo siamo arrivati in fondo amici quindi lo levi per la prossima puntata quando non lo voglio più la prossima puntata non lo voglio più e poi io spero di essere anzi credo che sarò a Imola per cui lo faremo dal vero dal vero dal vero va bene amici motospa.com allora siamo arrivati in fondo commentate qui sotto fateci sapere gli argomenti come al solito sono particolarmente interessanti e per certi versi anche divisivi quindi non è detto che ci sia una visione univoca eh su temi che sono scottanti e che è giusto toccare oggi in una previsione eh come sempre vi invito a iscrivervi al canale youtube di motosport.com così riceverete le informazioni dei prossimi video che vi proporremo Antonio siamo arrivati in fondo buon sabato Buon sabato a tutti e non sorprendetevi se ho scelto come secondo nome candido l'ho fatto proprio per poter dire le cose candidamente eh documentandomi ma forse in certi momenti anche un po' visionario un po' naif un po' un po' preso dalla passione ma è meglio così piuttosto che starsene chiusi in una scatola e far finta che tutto sia bello quello che si ha e non e non pensare a cosa potrebbe essere Antonio grazie sabato prossimo ciao a tutti ciao ciao ciao